Show della Etics Quickstep nella quarta frazione del Tour de Suisse 2016 La formazione belga, con una tattica perfetta, vince sul traguardo di Champagne con Maximiliano Ricchezze L'argentino esce all'ultima curva in prima posizione con a ruota Fernando Gaviria e Peter Sagan con il colombiano che fa il gioco di squadra creando il buco e permettendo a Ricchezze di centrare uno splendido successo Leader della classifica generale rimane ovviamente Sagan che con ogni probabilità però domani perderà la maglia nel primo arrivo in salita Leader della classifica generale rimane ovviamente